A luna di notte del 13 dicembre del 1836 il custode del teatro La Fenice viene svegliato da un odore acre. Verifica che è in corso un incendio, un incendio di vaste dimensioni che per tre giorni e per tre notti, nonostante l'intervento pronto dei vigili del fuoco e di Venezia, distruggerà quello che era ed è uno dei più grandi e celebri teatri d'Europa. Serviranno sette anni per ricostruirlo, com'era e dov'era e si scoprirà poi che a provocare questo incendio era stato un malfunzionamento della caldaia che aveva innescato una scintilla la quale aveva poi provocato gli incendi. Il teatro era stato costruito nel 1792.